È la più longeva rassegna dedicata all'eccellenza del prosecco. Da 62 anni la mostra del Valdobbiadene di OCG di Col San Martino racconta tradizione e innovazione del principe dell'enologia della marca. L'edizione 2018, come sempre curata dalla Proloco di Col San Martino, verrà inaugurata sabato 24 marzo. Luciano Stival, presidente della Proloco. Abbiamo voluto portare questa 62esima ai livelli mai arrivati prima. Quest'anno la Proloco d'ordine intanto è valorizzare il territorio. Sappiamo che c'è anche questa aspettativa all'UNESCO, quindi la nostra priorità era proprio quella di dire ok, diamo un occhio a quello che a noi ci avvicino e che molto spesso non ce ne accorgiamo. Una valorizzazione che parte proprio dall'aspetto culturale. Oltre alle passeggiate culturali, diurne e notturne, abbiamo una pedalata in mountain bike con la partenza dal Tempio di San Vigilio, il nostro tempietto simbolo, che poi si prodiga lungo il Piave. Abbiamo poi allestito un trenino che nelle domeniche, la domenica e il lunedì di Pasquetta fa fare a tutti quanti i visitatori un percorso che va dalla campagna verso i nostri colli e passando in ogni caso per il Tempietto di San Vigilio. Abbiamo poi aperto una cosa storica perché nessuno mai l'ha fatto prima, abbiamo aperto la chiesetta di San Francesco Santa Teresa che è qui adiacente alla mostra di Costa Martino. Abbiamo onestamente fatto un programma ricchissimo. Il cuore della manifestazione resta naturalmente sua maestà, il prosecco di OCG. Quest'anno all'interno della mostra è possibile trovare 73 produttori di vini spumanti, i quali con le loro etichette Brut Dry e Extra Dry propongono più di 200 tipologie di vini diversi, mentre per quello che riguarda il vino che comunque ha fatto la storia di questa mostra, cioè il vino della tradizione secco e amabile, sono presenti 35 produttori che continuano negli anni ad essere presenti e decisi nella nostra mostra e nel nostro territorio. Alla fine della Kermess una giuria di esperti enologi decreterà in ogni categoria le bottiglie migliori. Non solo vino comunque, i visitatori della mostra potranno anche soddisfare il palato con spiedo, trippe, affettati tipici ed altre specialità gastronomiche. Numerosi poi gli eventi collaterali promossi anche in collaborazione con il comune di Farra di Soligo. Dalla conferenza sul coraggio delle donne e la strada dei cento giorni, in cui lo storico Raffaello Spironelli ripercorrerà l'anno della fame dell'occupazione austro-ungarica, visto soprattutto dall'ottica femminile, il 10 aprile, alla mostra sulle fotografie del backstage del film Finché c'è Prosecco c'è Speranza, girato proprio sulle colline valdobbiadenesi. L'apertura lunedì 26 marzo alle 20 con a seguire la proiezione della pellicola. Una mostra, insomma, sempre più veicolo di promozione per l'intero territorio, come ricorda Silvia Spadetto, vice sindaco e assessore al turismo del comune di Farra di Soligo. Finalmente diciamo che ci stiamo tutti organizzando per promuovere sempre di più il nostro territorio a 360 gradi, quindi non soltanto i singoli avvenimenti, le singole manifestazioni che ci sono, ma collegarle a tutto il territorio del conegliano valdobbiadene. Dopo il taglio del nastro sabato 24 alle 16 la 62esima mostra resterà aperta fino al 15 aprile. Gli orari dal martedì al venerdì dalle 17 e 30, sabato dalle 14 e tutte le domeniche a partire dalle 10, sempre fino a mezzanotte. Non sarà facile, ma gli organizzatori puntano a bissare il record di 50.000 presenze del 2017. Le giornate migliori sono le domeniche, magari una bella giornata di sole da passare in famiglia con degli amici, degustare un ottimo bicchiere di prosecco di conegliano valdobbiadene di Ocg e passare una giornata e un momento di festa in uno splendido posto.